Non chiudete gli occhi, questa è magia. Ciao a tutti, bentornati, siamo a luglio, abbiamo avuto giornate calde e altre giornate meno calde, ma siamo sempre comunque in estate, quindi se uno pensa all'estate, pensa al mare. Infatti una grande percentuale in vacanza va al mare, ma ci vanno uomini, bambini, cani, donne. Infatti l'effetto magico di oggi sarà rappresentato da una donna che vedete censurata, perché sinceramente dai ragazzi, chi è che non ha mai visto un po' di... eh? Al mare. Quindi sarà un effetto magico un po' piccante. Tre carte rosse bicycle e sulla prima carta abbiamo una splendida bionda, ma se nella parte superiore c'è un volto, in quella centrale c'è... no, aspetta, forse è meglio di no, ma si dà intanto è un disegno, un busto e queste sono... vabbè, lasciamo perdere. Quindi sappiamo già cosa sta succedendo, ma prima di tutto ci manca il bichini, la parte inferiore. Se abbiamo un bichini, abbiamo un busto e abbiamo un volto, la figura che uscirà avete già capito cos'è. Ma... vediamo se siete stati attenti. Quindi qui parte inferiore il bichini, qui abbiamo il volto e qui in mezzo la carta che ho messo qua sotto nel tappetino. Cos'è ragazzi? Il busto. Vediamo se avete ragione. E infatti è il busto. Pronti a vedere la figura? Sicuri? Andiamo! Qui non c'è nessuna donna mezza nuda, ma soltanto un somaro. Il video è giunto al termine. È più di un anno che dico il video è giunto al termine. Se avete qualche consiglio qua nei commenti, ditemi come posso chiudere il video. Il video è giunto al termine. Spero che questo effetto magico vi sia piaciuto. È stato un po' piccante, divertente, ma soprattutto sempre d'effetto. Ragazzi, iscrivetevi al canale. Tanti lo stanno già facendo. Se a voi non l'avete ancora fatto, fatelo. Lasciate un mi piace e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati su quello che faccio. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!